Sono tre i beni confiscati alla criminalità organizzata nella città di Andria, sono stati trasferiti nel patrimonio dello Stato in vista dell'apertura della prima questura della BAT in via di ultimazione proprio ad Andria in via indipendenza. Tornando alle confische si tratta di un'unità immobiliare per uso abitazione del valore di 366 mila euro con annessi magazzino e box auto. Un complesso ITER coordinato dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in sinergia con la prefettura di Barletta Andria Trani. Il Tribunale di Trani a gennaio stabilì la confisca dei beni in danno di un esponente della criminalità organizzata andriese. Oggi le unità immobiliari sono state definitivamente sgomberate e rilasciate alla prefettura in perfetto stato di conservazione allo scopo di essere destinate alle esigenze della questura. Nell'imminenza inoltre si darà corso alla procedura di assegnazione per usi governativi della Polizia di Stato di un ulteriore immobile ubicato sempre nella città di Andria confiscato ad un noto esponente di vertice di una consorteria criminale locale. La restituzione dei beni al circuito della legalità è un elemento decisivo per un'efficace strategia di contrasto alla criminalità organizzata ed un segnale credibile di riaffermazione dello Stato ha dichiarato il prefetto della BAT Maurizio Valiante proprio in vista dell'imminente avvio ed operatività della nuova sede della questura che rappresenterà un solido architrave della sicurezza e della legalità nella provincia.